Ciao ragazzi, siamo qui per Inside per il programma Milano Città Aperta di RadioCat e siamo agli X Days, questa presentazione di quell'evento che si terrà a giugno 2014 dedicato esclusivamente alla street culture, quindi quelle che sono le cultura metropolitana e underground della città, non solo di Milano ovviamente, ma di tutte le città del mondo. Si parla infatti di skateboard, di rollerblade, di breakdance, DJ, musica palla, tutto quello che piace a voi. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!